This e these sono aggettivi dimostrativi e vogliono dire rispettivamente questo, questa, questi, queste. Ma vediamo cos'altro, oltre alla traduzione, li differenzia. Entrambe gli aggettivi dimostrativi iniziano con il suono del TH V, ma poi ognuno, possiamo dire, prende la sua strada. These infatti si pronuncia con una I corta, lo stesso suono che ritroviamo in parole come bit, fit, these. These invece si pronuncia con un suono più lungo, lo stesso suono che troviamo in parole come beat, feet, these. Ma non finisce qui, perché anche sul finale abbiamo delle differenze. Mentre these finisce con la S di snake, these finisce con la Z di zoo. Ci avevi mai fatto caso? Scrivemelo nei commenti e ricorda, I speak globish, and you?